Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa diocesana di Pescara, Penne. Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza con cui la nostra Regione delinea il rientro in zona arancione. Il provvedimento ha efficacia dal momento della sua pubblicazione, quindi già da oggi. Il Ministro Speranza, Ministro della Salute, si legge in una nota dello staff del Presidente Marsilio, è stato informato prima dell'adozione del provvedimento. Marsilio ha ritenuto di doversi assumere la responsabilità di evitare che un'applicazione letterale delle norme vigenti provocasse all'Abruzzo un trattamento sproporzionato e dannoso. C'è la disponibilità del Governo a riconoscere la fine del periodo di zona rossa nelle tre settimane che sono necessarie e sono obbligatorie. Quindi, in caso di ritorno dell'Abruzzo in arancione, da mercoledì, l'intesa ci sarebbe da parte del Ministero della Salute. Se, in caso invece di anticipo della Regione, si rischia la diffida, lo ha detto il Ministro alle Autonomie Regionali, Francesco Boccia, intervenendo durante la trasmissione televisiva, non è ladurso. Le fonti vicine al Presidente Marsilio fanno sapere che il Presidente della Giunta Regionale non commenterà la puntualizzazione del Governo sulla data di mercoledì, anche perché nel comunicato della Regione stessa veniva riferito come Marsilio avesse sentito il Ministro Speranza, ma non che il Ministro avesse avallato la decisione, cioè avesse dato una sua autorizzazione. La responsabilità della riapertura è dunque di Marsilio, assunta, dice la Regione stessa, in totale autonomia. La Regione quindi prova a chiudere la partita. Le stesse fonti ribadiscono all'Agenzia giornalistica ANSA che l'ordinanza, la numero 106, è in vigore da oggi e che il Governo può solo eventualmente impugnarla davanti alla Corte Costituzionale. Oggi comunque Marsilio farà il punto della situazione in una conferenza stampa all'Aquila. Le principali differenze tra zona rossa e zona arancione riguardano la riapertura di tutti gli esercizi commerciali e la possibilità di circolare senza autocertificazione all'interno del proprio comune, anche se resta raccomandato di evitare spostamenti non necessari. Resta fermo il coprifuoco dalle 22 alle 5, riaprono i centri estetici. Inoltre, da mercoledì torneranno alla didattica in presenza anche le seconde e terze medie. Oggi e domani, per il calendario regionale, le scuole restano chiuse per il Ponte dell'Immacolato. L'amicindiale combinazione del prolungamento della permanenza in zona rossa dopo che la stessa era stata anticipata e di ritardo vistoso nella fornitura dei ristori regionali alle categorie colpite rischia di avere esiti durissimi per l'economia regionale, motivo per cui occorre individuare e mettere subito a disposizione del sistema produttivo nuove risorse finanziarie perché qualcuno dovrà pur pagare il conto di quanto accaduto. Lo chiede il presidente della CNA regionale, Savino Saraceni, che si dice gravemente preoccupato per la situazione che si è creata in queste ore in Abruzzo. Ma ora, per Saraceni, è il momento di non perdere ulteriore tempo in recriminazioni e cercare di rimediare al danno con nuove misure straordinarie. E dico, aggiunge, straordinarie, anche pensando all'ordinario, perché dei circa 177 milioni di euro stanziati dalla regione con i suoi provvedimenti originari e le successive integrazioni, ovvero il cura Abruzzo 1 e 2, ne sono sin qui arrivati nelle tasche dei destinatari che, che se ne dica, davvero pochi e per un importo medio di poco superiore ai 1000 euro, sulla cui congruità è superfluo aggiungere altro. Dunque, dice ancora Saraceni, si tratta adesso di correre ed erogare, cioè fornire entro la fine dell'anno, con uno scatto da velocista, tutte le somme residue che sono state impegnate con uno sforzo della pubblica amministrazione chiamata agli straordinari. In secondo luogo, conclude Saraceni, parlando a nome della CNA regionale, e in secondo luogo bisogna individuare ulteriori risorse finanziarie da destinare alle categorie colpite. Nella domenica in cui l'Abruzzo sfonda il tetto dei 30 mila contagiati dall'inizio della pandemia, la curva complessiva dei casi positivi continua a flettere. Ieri sul territorio regionale sono stati registrati 294 nuovi casi di età compresa tra gli otto mesi e cent'anni. Non si scendeva sotto quota 300 dal 21 ottobre scorso. La provincia, con il maggior numero di casi, resta quella di Teramo, con 106 nuovi positivi, 98 positivi nelle ultime 24 ore in provincia di L'Aquila, 54 in quella di Pescara e 38 in provincia di Chieti. Dal totale vanno sottratti due casi dei giorni scorsi, dal cui residenza è stata accertata e attribuita alla provincia di riferimento. effettuati nelle 24 ore tra ieri e l'altro ieri 4.701 tamponi, con un tasso di positività che continua a scendere ed è ora al 6,25%, anche qui tornando a livelli al di sotto di quelli del 21 ottobre scorso. Nelle 24 ore dello scorso fine settimana sono stati purtroppo registrati 11 decessi, con il totale che raggiunge la quota di 980. Sono saliti a 12.206 i guariti, che sono 442 in più rispetto a sabato. Pertanto scendono a 17.088 gli attualmente positivi, scesi di 159 unità in un giorno. Cala, si appur lentamente, il carico sugli ospedali. Scendono a 667, 8 in meno i pazienti ricoverati nei reparti, mentre sono 71 quelli assistiti in terapia intensiva, due in meno nelle 24 ore tra ieri e sabato. Diminuito progressivamente anche il numero dei positivi in isolamento domiciliare, attualmente fermo a quota 16.350. Prorogata alla giornata di oggi l'attività dei screening sulla popolazione del comune di L'Aquila, lo ha stabilito il sindaco aquilano Pierluigi Biondi, con l'ordinanza firmata nel primo pomeriggio di ieri. Da ieri fino appunto alle 17 del pomeriggio sono stati effettuati 4.794 tamponi, che portano in totale a 21.671, con 12 positivi, 52 in totale dall'inizio delle attività di screening e due dubbi, fino ad ora 14 quelli dubbi in totale. Il 22 settembre circa 24.000 aspiranti medici specialisti hanno sostenuto il concorso SSM 2020. Il 5 ottobre doveva essere resa pubblica la graduatoria sul portale Universitaly e nei giorni successivi, una volta compilata la scelta delle preferenze, sarebbe stata comunicata la sede di assegnazione dei singoli candidati vincitori, circa 14.000. A causa di diversi ricorsi, alcuni riguardanti il bando ed altri le domande somministrate durante la quiz a risposta multipla, si è incappati invece in una serie di rinvii che hanno portato di mese in mese allo slittamento delle assegnazioni. L'ultimo rinvio è stato comunicato il 3 dicembre scorso. Le assegnazioni dovrebbero slittare dunque al 15 dicembre. La presa di servizio dei vincitori di questo concorso per aspiranti medici è fissata al 30 dicembre, considerando che alcuni dovranno spostarsi anche di 1.000 chilometri, considerando la necessità di trovare alloggio utile prima del 30 dicembre e considerando che molti candidati non risulteranno vincitori al concorso, ma potranno comunque cercare impiego per fronteggiare l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, oggi molti medici scenderanno in piazza in tutto il paese per chiedere di sbloccare subito la graduatoria del concorso, accelerando le tappe burocratiche che stanno bloccando le assegnazioni. A Pescara si terrà la manifestazione regionale abruzzese. Siamo al meteo, non senza aver detto che in questo lunedì 7 dicembre la Chiesa celebra la memoria di Sant'Ambrogio Vescovo. Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso nel Terramano, nel Pescarese e nel Chietino, mentre annuvolamenti saranno presenti sulla Marsica, nell'Aquilano e sull'Altosangro, occasionalmente associati a precipitazioni sparse. Un graduale aumento della nuvolosità è previsto dal tardo pomeriggio sera a iniziare dal settore occidentale, con possibilità di rovesci in intensificazione in tarda serata o nottata, specie sulla Marsica, nell'Aquilano e sull'Altosangro. Venti meridionali in rinforzo da stanotte nelle prime ore della giornata di domani, con forti raffiche sulle zone montuose e pedemontane. Scirocco in rinforzo da domani mattina. Nel corso della mattinata di domani, inoltre, i rovesci potranno estendersi anche verso il settore adriatico. Temperature generalmente stazionari, eventi deboli e moderati dei quadranti occidentali in rinforzo nel pomeriggio sera. Da stasera notte tenderanno a provenire dai quadranti meridionali, rinforzando Scirocco in rinforzo lungo la fascia costiera e sull'Adriatico centrale. Mare molto mosso, con moto ondoso in temporanea attenuazione e da stasera notte è previsto un nuovo deciso aumento del moto ondoso. Dati di abruzzometeo.org Ed è tutto per questa edizione del nostro radiogiornale. Da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa di Pescara Penne. Grazie, a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica.